Quello lì davanti, non è con la crema, il primo lì Guarda Bibiana Bibì 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 L'atterri, l'atterri Vai vai, dentro, dentro, tutti single dentro Tutti dentro Via, ascia tutti insieme Cominciamo Vai Vai, bomboloni, yes No, no, separati Vai Una Io devo pensare a che caso E' buono Non ci sono quelle di vacca Dov'è? Tutto qua lungo Eh, crema chantilly Tutto qua lungo Allora, nutritional Siamo 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 � need Siamo PH Grazie a tutti.